Il nostro sermone oggi porta il titolo Gli aspetti di fede e di moralità nel digiuno Ma prima di tutto l'ode ad Allah, Signore dell'Universo Che dice il nobile Corano E concorrete al perdono del vostro Signore a un giardino, cioè paradiso Largo come i cieli e la terra Preparato per i pi che spendono nella giadezza e nell'avversità Che dominano la loro rabbia e perdonano gli altri Perché Allah ama e bene fatto Il testimonio che non c'è diventato al fuori di Allah L'unico senza alcun associato E che il nostro maestro Muhammad e il suo servo è messaggero O Allah dona la tua salvezza e le tue benedizioni a lui Alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che li seguono con rettitudine Fino all'ultimo giorno, seguitando nel merito Cari ispettatori Allah, gloria a lui, istituì il digiuno per i sublimi finalità e i nobili saggi E la scuola di fede e di moralità Contemplando il nobile Corano Si comprende che il vero Dio, eccelso, sia lui cita la finalità del digiuno dicendo O e credenti Ve è stato prescritto il digiuno come è stato prescritto a quelli prima di voi In modo da raggiungere la pietà La pietà è un valore comune delle qualità del bene Viene nel nobile Corano combinato da diversi valori di fede ed etici Seguitando nel merito ancora Allah, gloria a lui, disse sempre nel Corano La bontà, pia, non consiste nel volgere i vostri volti verso il levante o il ponente Ma la bontà, pia, è di credere in Allah Nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro e nei profeti Di dare del suo bene qualunque amore si abbia Ai familiari, alle orfani, ai bisognosi, ai viaggiatori bisognosi E a coloro che chiedono aiuto per sciogliere i giochi Di combiere la salà, cioè la brighiera E di assolvere la sacca, cioè la carità religiosa E quelli che addembiano ai loro impegni quando si sono arruolati Quelli che resistono nella miseria, nella malattia E quando i combattimenti infuriano, eccoli i veri paletti Tra gli aspetti di fede e di moralità nel digiuno si cita il valore nella sorveglianza Il digiuno è un segreto tra il servo e il suo signore Nessun altro che Allah E le tiene la prova sulla certezza dell'uomo che Allah lo vede in segreto come in pubblico Allah, gloria a lui, disse Non ti troverai in nessuna situazione Non reciterai alcun passo del Corano Non eseguerai alcun atto senza che noi siamo testimoni nel momento in cui lo entrerai Non sfugge al tuo signore né il beso di un atomo sulla terra o un cielo Né un beso più piccolo o più grande che non sia già scritto in un libro evidente Visto il senso di sorveglianza, la retribuzione del digiuno è enorme Noto solo dalla gloria a lui Il nostro profeta Muhammad Baci, prendizione dall'asso di lui, dice Ogni atto condotto dall'accademico è ricompensato E il buon atto è moltiplicato per dieci fino a settecento volte Allah, gloria a lui, disse Eccetto il digiuno Egli e la sua retribuzione appartengono a me L'uomo si astiene dal suo desiderio e dal suo cibo per me Si addice al digiuno che osserva gli ordini del suo signore Di osservarli anche Come vediamo nel suo lavoro, nella sua produzione, nelle altre transazioni al Ramadan o altre oltre Ramadan Il digiuno è la scuola della pazienza in tutte le sue forme Si tratta della pazienza per combire gli atti di obbedienza Di astenersi dai devieti e da cattive inclinazioni Per questo il nostro profeta Muhammad Baci, prendizione dall'asso di lui Qualifica Ramadan di mesi di pazienza dicendo Osservare il digiuno del mese della pazienza E tre giorni di ogni mese uguale al digiuno dell'anno intero Conviene dunque al digiuno segnarsi della pazienza Reprimere la sua rabbia, perdonare ciò che gli fa torto Dare a ciò che lo briva a rendere beneficenza a colui che gli fa male E il profeta Muhammad Baci e benedizione dall'asso di lui Dice Il giorno in cui uno di voi osserva il digiuno Non deve dire parole indecenti Né fare rumore Se uno gli lancia insulto O cerca di compattersi con lui Deve dire Io osservo il mio digiuno Oppure il digiuno E il vero digiuno non mente Non tradisce Non tradisce Non calunia nessuno Il nostro profeta Muhammad dice Chi non si astiene dalla falsa testimonianza Né dal comportarsi nella sua virtù Allah non ha bisogno che si astenga dal bere o dal mangiare Seguitiamo Oppure seguitando nel merito Diciamo L'ode ad Allah Signore dell'universo So che la salvezza e le benedizioni di Allah E hanno concesse all'ultimo dei profeti E messaggeri Il nostro maestro Muhammad Baci e benedizione dall'asso di lui Alla sua famiglia e a tutti i suoi compagni Cari spettatori Tra le grandi finalità del digiuno si citano La solidarietà L'enter clemenza E il fatto che si sente la situazione dei poveri e indigenti Intorno a noi Rendendo loro affetto sollievo Ma anche soddisfacendo i loro bisogni Interroga Quale aspetto dell'Islam è il migliore? E il profeta Baci e benedizione dall'asso di lui Dice Offrire da mangiare e diffondere la salvezza a ciò che conosci E che non conosci Se la retribuzione della solidarietà Entre clemenza e offerta di cibo è enorme in tutti i cambi E' più grande nel mese di Ramadan Il profeta Muhammad dice ancora Chiunque offerto da mangiare a un digiuno Avrà l'equivalente della sua retribuzione Senza che quella del digiuno sia diminuita Abdullah ibn Abbas Che Allah sia d'accordo con lui E suo padre Disse Il messaggero di Allah E' stato E' stato Il più generoso Soprattutto il mese di Ramadan Sarebbe meglio imparare Dalla scuola del digiuno Le lezioni di fede E le vertù morali Per raggiungere la sublime finalità del digiuno Jabr ibn Abdullah Che Allah lo gradisca Lui e suo padre Disse Quando osserva il digiuno Bisogna che il tuo odito La tua vista E la tua lingua Si astengono da ogni male Evitano di nuocere ai vicini E abbiano la serenità Il giorno del digiuno O Allah Infine Preserva i nostri paesi E tutti i paesi del mondo Grazie dell'ascolto Grazie a tutti i nostri paesi